Andiamo avanti con le esibizioni, ora è il turno della prima GURS della gara, è Claudia Bampi che canterà e suonerà il suo pezzo, U&B, il suo colcello 03. La prima volta che canto questa canzone in pubblico è una mia canzone. La prima volta che canto questa canzone, 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 La prima volta che can eliminate, La prima volta che può incontrare, Grazie.